con un articolino di due righe della gazzetta si vado la rinegozio il prestito massime cosa fa mi si venga a dire come verranno pagati vendete tutti i giocatori io fossi uno che c'è in mano i bond direi no a me non va bene e loro sono creditori di serie a perché loro sono creditori c'è anche l'assemblea degli obbligazionisti esatto che glielo impediranno però zangler vuol fare ma siamo sicuri che quando chiamano poi la chiami proprio lui e non lo chiama il creditore pignoratizio perché anche le garanzie le garanzie di oltre vengono meno quindi lui ha interesse di renocca perché se c'è un depo operamento del patrimonio dell'inter interviene non è mica stupido quindi come fa andare avanti questa gente quando dice queste cose non può dire non vende pochi app e se ne va va a prendere un caffè al bar ci devono spiegare